Good evening children! Buonasera bambini! Ci sentiamo oggi la sera, sono le 18.14 a quarter past 6 pm, sono le 6 e un quarto della sera. Come state? How are you today children? Cosa state combinando in queste vacanze forzate? State facendo molti compiti? Vi state riposando? Let me know, fatemi sapere come state, se volete commentate pure sotto il video. Ok, questa è la lezione che ci serve per correggere le schede che vi ho dato qualche giorno fa. Se le avete già fatte, continuate con la visione di questo video. Se invece non le avete ancora fatte, mettete stop e lo vedete appena le avete terminate. Ok, iniziamo con la scheda riguardante the RIS e the RAR. Questa bambini è l'unica scheda che io non ho completato, nel senso che la vedrete non completa qui nel PC, perché è talmente semplice che ho pensato fosse sufficiente completarla in maniera orale insieme a voi. Quindi state attenti, prendete la scheda e vediamo insieme cosa andava scritto. Le altre invece le ho fatte, le ho completate, le ho stampate, le ho completate, le ho messe nel PC e quindi vedrete direttamente la correzione online. Questa invece la facciamo insieme. Ok, cosa dovevate fare? Dovevate osservare bene questo living room, questo soggiorno dove ci sono vari oggetti, vari gatti, eccetera. E dovevate completare le frasi successive. Per chi non aveva la possibilità di stampare, poteva tranquillamente riprodurre il disegno e poi le frasi nel quaderno, spero che insomma non abbiate avuto grosse difficoltà. Fatemi sapere insomma anche tramite rappresentanti, eventualmente o comunque anche nei commenti. Anche qua manca la U, vi ricordate che ve lo dico sempre praticamente. Color nel British English, cioè nell'inglese che si parla nel Regno Unito, praticamente ci va la U. Invece nel American English si scrive color esattamente come è scritto qua, come l'ha scritta la nostra amica maestra Lidia che ogni tanto ci aiuta nei compiti in questi tempi non proprio semplici. Ok, quindi dovevate prima completare le frasi e poi colorare come richiesto. Ok, vediamo un attimino. Qua l'avevamo anche un po' fatta insieme nel video precedente, se ben vi ricordate. Quando ci sono due oggetti dobbiamo comunque mettere there are, quindi in questo caso there are two red armchairs. Quindi ci sono due poltrone rosse, dovevate colorare anche le poltrone che vediamo qua nel disegno di rosso. Ok, l'avete fatto? Bene, andiamo avanti. Sentence number two. There is a blue sofa. Stiamo parlando di un solo oggetto, perché abbiamo, vediamo qua che questo significa un, questa A. C'è un divano blu. There is a blue sofa. Quindi dovevate scrivere there is qua e colorare di blu il divano. Come siete? Tutto bene? Number three. Ok, qui abbiamo addirittura four. Quindi naturalmente stiamo parlando di cinque, di quattro gatti bianchi che ci sono sul divano. Quindi there are four white cats on the sofa. Quindi i gatti sono gli unici che non vanno colorati, perché sono bianchi. Se sentite un rumore sottofondo, bambini, sono i muratori del mio vicino che non si fermano mai. Speriamo che finiscano il prima possibile, ma è possibile che in questi giorni nei video sentiate delle martellate. Purtroppo, perché pensate che io le sento tutto il giorno. Comunque andiamo avanti con la nostra correzione. Siamo alla frase numero quattro. Number four. There are three yellow chairs. Quindi stiamo parlando di tre sedie gialle. Quindi sono tre e quindi dobbiamo scrivere there are three yellow chairs. E colorare le sedie che vedete qua di giallo. Ok? Come sta andando? Number five. There is one pink table. Vedete che c'è scritto one, quindi vuol dire che è solo uno e quindi c'è. Usiamo there is. Ok? Pink, one pink table. Quindi lo coloriamo di rosa. Che gusto strano questo soggiorno con il tavolino colorato di rosa. Avete voi nel vostro living room dei tavolini colorati di rosa? Spero di va per voi. A meno che non sia insomma il soggiorno di Barbie. Number six. There is a... Quindi è solo uno. A green vase on the table. Quindi c'è un vaso verde sul tavolo. Dovevate scrivere there is e colorare questo vaso di verde. Andiamo avanti. Number seven. There is an orange carpet. There is an... Uno. Allora qui l'articolo, vi do una piccola anticipazione a quello che faremo probabilmente più avanti. Questo articolo diventa an e non a, come sempre, perché è seguito da una parola che inizia per vocale. Quando in inglese l'articolo indeterminativo è seguito da una parola che inizia per vocale, non usiamo a, ma usiamo an. There is an orange carpet. C'è un tappeto arancione. Quindi il nostro unico tappeto lo dobbiamo colorare di arancione. Sono sparita un attimo perché è apparsa una pubblicità. Ok. Let's move on. L'ultima frase era la number eight. There is a gray TV. Solo una, una televisione. There is a gray TV. Eccola qua, la dovevate colorare di grigio. Com'è andata, bambini? Seconda scheda da fare, secondo esercizio da fare. In the classroom. Look at the picture and put an X in the right column. Io effettivamente ho messo un tick perché sono abituata all'inglese, chiedono sempre di mettere il tick e non ho messo una X, ma ho messo il tick. Ok, dovevate osservare bene quest'immagine e rispondere true or false. Ora vediamo insieme le risposte. Ok. There are ten students in the classroom. Vi avevo già detto anche nel video precedente che può imbrogliare questa domanda perché in realtà magari contiamo tutte le persone presenti nella stanza, in realtà c'è l'insegnante e quindi non sono dieci studenti ma sono nove studenti più l'insegnante. Spero di aver contato bene, anche io perché ogni tanto si sbaglia, ma li riconto insieme a voi. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. No, ok, sono sempre nove. Ok. Ok, i bambini. Vediamo un pochino. Number two. There is a clock over the door. C'è un orologio sopra la porta, sulla porta ed effettivamente c'è, adesso non lo vedete perché ci sono io in mezzo, ma eccolo qua l'orologio. Quindi true. There are three children near the TV. Ci sono tre bambini vicino alla televisione e direi di sì perché questo bambino qua sta parlando con l'insegnante e quindi è un pochino spostato. So, number three, true. Number four. There isn't a teacher in the classroom. False, because there is a teacher. Here's a teacher. Eccola qua, l'insegnante. There is a small window. Io ho messo false, non so voi perché a me pare che questa sia big window. There is a big window, it's not a small window, right? Siete d'accordo com'è? È una finestra abbastanza grande, quindi false. There is an American flag in the picture. Yes, true. There is an American flag. Ecco qua la bandiera americana. Number seven. There are six chairs in the classroom. Ho messo false perché le ho contate. Vediamo un po', le contiamo insieme. Number one, number two, three, four, five, six. Ok, io vedo solo... Ok, no, quindi sono sei. Avevo sbagliato prima probabilmente. Ah no, 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 sono cinque perché questa non è una sedia. Uno. One, two, three, four, five, six. No, ok. Allora bambini, mi correggo che qua probabilmente ho sbagliato io contando. Quindi qua, bambini, mi raccomando, mettete true. Ok? Probabilmente ho contato male. Maestranita, se mi stai seguendo, non sgridarmi per aver contato male. Ok? So, this is true. L'ultima è vera. Le riconto per sicurezza. One, two, three, four, five, six. Ok, probabilmente mi ero persa questa sedia in fondo. Quindi, number seven, two. Mi raccomando, non fate il mio stesso errore, maestranita. Forgive me, perdonami. Ok, children, there isn't much time. Non c'è ancora molto tempo perché questi video possono durare massimo 15 minuti. Quindi cercherò di andare un pochino più veloce con la correzione di queste ultime due schede. Ok, as and hasn't. Dovevate osservare l'esempio. Look at the example and complete. Osservare l'esempio. C'è un oggetto, di solito un cibo, che la persona nella figura ha e un cibo che non ha. Lucy has got a yogurt. Lucy hasn't got an apple. Ok? Andrew has got an ice cream. Andrew hasn't got a cake. Ok, children, se necessario mettete pausa per osservare bene di aver scritto correttamente le frasi. Tom has got a pencil. Tom hasn't got a rubber. Helen has got a book. Helen hasn't got a pen. Sarah has got a pencil. Sarah hasn't got a faulty pen. Che sarebbe un pennarello. Lily, se avete messo il evidenziatore, va bene lo stesso. Insomma, a me è sembrato un pennarello. Lily has got a calculator. Lily hasn't got a pencil. Ok, children, com'è andata questa? Fatemi sapere. Ultima scheda che dovevate fare era quella sul verbo essere. Cosa dovevate fare? Match, unire i pronomi personali al verbo. E inserire il verbo qua, nella parte complete. Quindi chiaramente I va con him, she va con his, we are. It is, you are, they are. Very, very easy. Bambini, molto semplice. Vi siete riandati a vedere il fiore? The flower, the verb to be flower. Spero di sì. Quando torniamo a scuola vi voglio super preparati sul verbo essere. Complete. Abbiamo it perché stiamo parlando di un oggetto. We are happy. You are kind. Che vuol dire gentile. Quindi tu sei gentile. She is my sister. Lei è mia sorella. They are tired. Che significa stanchi. Quindi abbiamo imparato anche delle nuove parole. Tired, kind, che sarebbe gentili. Red car, ok. My sister, student, le conoscevate già. Allora vi invito bambini anche a usare il vocabolario. Se avete la necessità, magari non Google traduttore, se proprio volete usare il vocabolario online, sarebbe meglio usare word reference. Se avete necessità di scoprire il significato di nuove parole, se no il vecchio e caro vocabolario cartaceo is my favorite. Ok children, vi mando un abbraccio. Tanti saluti anche da Mr. Kong, che è il mio aiutante con i bambini più piccoli di prima e di seconda. See you soon children. Bye bye.